Tutto il calcio minuto per minuto Il risultato adesso è di 1-1 A Torino 28esimo minuto di gioco del secondo tempo Juventus ancora in vantaggio sulla Roma Per 2 reti a 1 Il gol al 24esimo Lo ha propiziato Benetti Ha effettuato il preciso cross al centro per Fanna Che ha saltato molto bene E ha messo a segno di testa imparabilmente A Torino per dare il terzo gol della Juventus Di Fanna Conduce adesso la Juventus per 3 reti a 1 Sì allora va bene Attenzione Bortoluzzi Il finale anche da Torino La Juventus ha battuto la Roma per 4 reti a 1